Siete amanti del colore blu del TCG di One Piece e volete optare per un leader che non abbia al seguito un deck eccessivamente costoso? Desiderate inoltre che il mazzo in questione sia abbastanza competitivo da garantirvi l'entrata nella top dei vostri local? Quale sarà allora il personaggio che potrà rispondere a tali esigenze? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Tra Zoro sempre più aggressivi, barba dominanti e smoker che controllano il campo da gioco, OP-Zoro 2 sembrava aver raggiunto il suo culmine consacrando questi tre leader a predatori alfa in cima alla catena alimentare. Sembrava e invece direttamente dalle celle di Impel Down, sfuggito alle grinfie di Magellan, un faccione simpatico e scansonato ha trovato quel posto in un meta che sembrava essere arrivato oramai a saturazione. Ivan Kov infatti attraverso le dinamiche semplici e dirette del suo deck ha divertito ed appassionato diversi aspiranti re dei pirati che in questo leader hanno visto un degno successore del doffi di OP-01. Personalmente il mio primo approccio con questa tipologia di mazzo non è stata proprio rosa e fiori, ma c'è da dire che non lo avevo utilizzato per niente prima di presentarmi ad un local e lo 0-4 che ne è conseguito ne è stata la prova. Ma, comprendendone meglio con il tempo il procedimento e le strategie basilari, devo dire che, non credo a quello che sto per dire, sia uno dei deck più divertenti e soprattutto performanti in questo meta popolato da mazzi rossi, verdi e neri. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone, per noi invece è molto importante, così riusciremo a creare e apportare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Bank of Blue. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo come al solito dal leader che alla fine del vostro turno, se non possiederete carta in mano, ve ne farà pescare due dalla cima del mazzo. Come per ogni altro leader monocromatico escluso barba, anche qui saranno presenti i tipici 5.000 punti di attacco accompagnati da 5 vite a supporto. Ma tornando a parlare dell'effetto, se riuscirete a giocarci attorno, sfruttandolo al massimo, darete davvero non poco filo da torcere a chi vi giocherà contro, avendo praticamente sempre risorse pronte da impiegare durante la vostra fase di counter. Passiamo quindi, dopo aver visto l'effetto del leader, a visionare l'intero deck partendo dai character che offriranno attraverso la loro abilità blocker un primo scudo contro gli assalti rivali. La quadruplice copia di Doflamingo a costo 3 ci darà il benvenuto in questa decklist. Il fenicottero, oltre alla parola chiave blocker per l'appunto, vi consentirà non appena entrerà in gioco di andare a guardare le prime 5 carte dalla cima del vostro mazzo, riposizionandole infine sulla stessa cima o in fondo a quest'ultimo nell'ordine che vorrete. E non solo si limiterà a regolarvi le pescate durante il match, ma grazie ai suoi 4000 punti di attacco all'occorrenza vi potrà tornare utile per minacciare le vite rivali assegnandogli un singolo don. E a proposito di pescata, piccolo intruso in questo settore sarà il pagliaccio più famoso della serie. I 4 buggy vi permetteranno, come per l'appena visto Doffy, di visionare le prime 5 carte dalla cima del vostro mazzo, rivelandone infine una tra esse con tratto Impel Down che non sia lo stesso buggy, aggiungendola di seguito alla vostra mano, riposizionando le restanti in fondo al deck nell'ordine che desidererete. Quindi il capitano dell'omonima ciurma svolgerà il compito della Nami o della Bonnie del caso. Attraverso di lui potrete andare a recuperare addirittura i tre pilastri fondamentali dell'intero deck, li vedremo fra poco, ma in linea di massima potrà tornarvi utile per qualsiasi evenienza sia offensiva che per l'appunto difensiva. Altro quartetto vedrà Inazuma fare la sua comparsa sui tavoli da gioco. Il forbice con i suoi 5000 punti potenza a costo 4, oltre a fornire uno scudo attraverso il suo effetto secondario, andrà ad ottenere la bellezza di 2000 punti forza se possiederete una carta o meno in mano. A mio parere uno dei character più forti della categoria, quasi quanto borsalino, soprattutto perché integrato in questo deck potrà il più delle volte sprigionare il suo pieno potenziale. Altre quattro copie per Mr. 3, Galdino. L'ex membro della Baroque Works chiuderà questo reparto blocker e grazie anche al suo effetto secondario, alla fine del vostro turno, se si ritroverà in stato di esaurito, potrà tornare pronto se scarterete una carta dalla vostra mano. Con i suoi 5000 punti di forza, a costo 4 inoltre, il candelaio potrà svolgere una sorta di lavoro alla chi dà a costo 7. Raramente l'ho visto giocare a pieno, ma se resisterà qualche turno in più sul campo da gioco, potrà creare non pochi problemi alla strategia offensiva rivale. 12 protettori, uno più valido dell'altro, vi faranno dormire sonni tranquilli, soprattutto se penserete che, assieme a loro, ci saranno la bellezza di altri ben 16 character con valore di counter pari a 2000. Le quattro copie di Alvida si presenteranno ai posti di partenza. Costo 2 e 3000 di forza, il membro della ciurma di Baggi, se gli assegnerete un singolo don, quando attaccherà, farà tornare un personaggio con costo pari a 3 o inferiore nella mano dell'avversario se scarterete una carta. Ma come già accennato, la piratessa verrà impiegata prevalentemente per il suo valore di counter pari a 2000. Altro quartetto per Mr. 2 Bon Clay Bentham. L'icona dell'amicizia e del sacrificio di One Piece, anche qui, se gli assegnerete un singolo don e quando attaccherà, vi permetterà di visionare le prime 5 carte dalla cima del mazzo, andando poi a rivelarne una a contratto Baroque Works aggiungendola di seguito alla vostra mano, posizionando infine le restanti 4 in fondo al deck. Effetto davvero interessante, soprattutto se vorrete andare alla ricerca del già menzionato Mr. 3 o il Mr. 2, che sarà letteralmente il prossimo che vedremo. Ovviamente, in tutti i vari match che ho affrontato e ai quali ho assistito, questo character è stato impiegato per la maggiore unicamente attraverso il suo valore di counter. Comunque, valutate bene, dato che possedendo un valore di forza pari a 4000, a costo 3, innescando nell'effetto potrete minacciare a sufficienza le vite rivali. Da determinare inoltre in questo frangente se vi aggraderà la sostituzione con altrettante perona, allo scopo di manipolare al meglio il ciclo di pescata. Spetterà a voi la scelta finale. Il quartetto di Mr. 2 Bon Clay Bentham, versione Impel Down, per l'appunto, come per l'altro Mr. 2 e Alvida, assegnandogli un Don. Quando attaccherà, farà tornare un character con costo pari a 2 o inferiore, in fondo al mazzo del proprietario, assieme allo stesso Mr. 2, quando la battaglia sarà giunta al termine e se scarterete una carta dalla mano. E con il suo costo 5, 5000 punti di forza, di certo rappresenterà un enorme problema per le difese avversarie, anche perché l'innesco dell'abilità di questa carta non sarà obbligatorio. Potrete scegliere di attivarlo o meno, a differenza invece del prossimo personaggio. Dracol Mehawk, infatti, non solo concluderà questo reparto 2000 counter, ma attraverso il suo effetto, ancora una volta, se gli assegnerete un singolo Don, vi permetterà di pescare due carte dalla cima del mazzo, andandone poi a scartare altrettante dalla mano quando attaccherà. E sarà proprio attraverso la sua abilità che il membro della flotta dei 7 alimenterà il motore di pescata dell'intero deck, entrando in perfetta sinergia anche con il leader stesso. In più, credo che un bel 6000 a costo 4 da buttare nella mischia di certo non sarà ben visto dalle difese rivali, ma comunque resterà il fatto che, nel buon 70-80% delle volte, verrà scartato dalla mano nell'intento di usufruire del suo valore di counter. E dopo aver esplorato anche tutto quello che vi servirà per dare supporto alla fase difensiva, rivolgiamo l'attenzione ora verso quei reparti che metteranno a ferra e fuoco le barriere nemiche. Ennesimo quartetto per Crocodile a costo 5, che con i suoi 7000 punti di forza si presenterà sui campi di battaglia come un classico character senza abilità. La presenza di questo personaggio tra le fila del mazzo di Ivan la scopriremo fra poco. Nel frattempo vi basti sapere che il rapporto costo-potenza del sabbioso di certo non vi farà pentire dei don spesi. Altre 4 copie per Luffy, che possedendo lo stesso valore di attacco di Croco, ma qui a costo 6, quando entrerà in campo o attaccherà, vi permetterà di far tornare un personaggio con costo pari a 4 o inferiore sotto il controllo rivale, ottenendo di seguito un pericolosissimo doppio attacco se scarterete due carte dalla mano. Molte volte, soprattutto quando me lo sono ritrovato contro, la sua capacità di far tornare in mano dei character, magari blocker sotto il mio controllo, non solo mi ha danneggiato notevolmente, ma ha anche permesso agli altri attaccanti avversari di concludere l'opera mettendo la parola fine all'incontro. Qui inoltre si parlerà di uno dei tre pilastri principali del deck, dato che se entrerà in sinergia con il prossimo elemento, creerà la combinazione perfetta per generare davvero molti problemi alla gestione delle risorse avversarie, che si potranno trovare in difficoltà nel contrastare un impiego di forze così massicce da parte vostra in un singolo turno. Le altre quattro copie di Emporio Ivankov, lato character, infatti, rappresenteranno la seconda colonna portante dell'intero mazzo, a mio parere la più importante. Costo 7 e 7000 di forza, una volta che entrerà in campo, vi permetterà di pescare carte dal deck fino a quando non ne avrete tre in mano, giocando di seguito un personaggio con costo pari a 6 o inferiore con tratto in playdown in vostro possesso. E quindi Luffy potrà entrare gratuitamente come Crocodile e qualunque altro personaggio con il tratto designato dall'abilità di questa incredibile carta. Andrà da sé quindi che prima lo avrete in mano e meglio sarà, soprattutto per dare una spinta notevole al match non appena avrete a vostra disposizione 7 o più don. Le ultime due copie di Mihawk a costo 9 chiuderanno questo reparto character. Lo spadaccino più forte del mondo con i suoi 9000 punti di forza, quando entrerà in gioco, andrà a spostare un personaggio con costo pari a 7 o inferiore sotto il deck del proprietario. Di certo il tenebroso non ha bisogno di presentazioni, anche se diverse volte ho visto questo colosso finire nella pila degli scarti, dato che a causa della sua natura sarà praticamente l'unica carta non sinergica del deck. Ma non per questo non tornerà utile, dato che possedere un 9000 presente in campo inevitabilmente metterà pressioni alle strategie difensive avversarie. Bene, ed ora dopo aver visionato l'intero reparto character, dedichiamoci questa volta non agli event. Questo deck non ne giocherà, anche se elementi come Impel Down All Star o Death Blink potranno trovare spazio all'occorrenza, magari dopo aver testato il mazzo a fondo e valutato quali saranno i punti deboli da rinforzare. Ma al momento provatelo così. Ma agli stage, nel quale deck se ne giocheranno 4. Di quale carta si tratta? Beh, l'unica fino ad ora disponibile per il colore blu. La quadruplice copia di New Camerland aprirà e chiuderà questo reparto stage. A costo 1, durante la vostra fase principale, potrete esaurirla andando a pescare una carta dalla cima del mazzo, scartandone di seguito un'altra dalla mano. Inoltre la seconda parte dell'effetto vi permetterà di scartare fino ad ulteriori tre carte in vostro possesso. Questo sarà il terzo ed ultimo pilastro del deck, dato che in combinazione con carte come il Doffy Blocker, Buggy e il Mister 2 a costo 3, o se vorrete la Perona, risulterà davvero devastante. In più, avendo la possibilità di scartare un numero massimo di carte pari a 4, l'abilità del leader si innescherà molto più spesso di quanto non crederete. La stage perfetta per un mazzo dinamico e stravagante come questo. Quindi, dopo aver visto l'intera lista, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? La strategia più comune sarà la seguente. Giocare Ivankov Character per poi infiegare in campo Luffy o qualsiasi altro personaggio che potrà tornarvi utile, sia in fase difensiva o offensiva. Cosa importante, l'abilità di Ivan non, e ripeto, non dovrà mai andare a vuoto. Se si presenterà l'occasione, optate per il non giocarlo affatto. Gestitevi anche le pescate con i vari elementi che vi aiuteranno a tale scopo e macinate carte con l'ausilio di New Kamaland per velocizzare la strategia dell'intero deck. Per la fase offensiva avrete i colossi rappresentati dai Luffy, gli Ivan, anche il leader rientrerà all'interno di questa generalizzazione, e i Dracula a costo 9, ma anche quelli a costo 4, assieme ai Mr. 2, versione carcerata e ballerina, i Duffy, gli Inazuma e i Mr. 3 all'evenienza. Quindi praticamente quasi la totalità del deck potrà tornarvi utile per l'impiego offensivo. Per la fase difensiva, stessa cosa, avrete già menzionati i Duffy, gli Inazuma e i Mr. 3, che verranno accompagnati da 16 più 2000 counter. Vedasi, Alvida, i Mr. 2, i Mr. 3 e i Dracul a costo 4. Diciamo che a seconda della situazione potrete utilizzare il deck a vostro piacimento, un po' come una sorta di mazzo double fass. Trattando invece l'argomento, mano iniziale, le New Kamaland e i buggy saranno i sempreverdi da andare a cercare il primo possibile, assieme a Duffy e magari qualche altro blocker che potrà tornarvi sempre utile. Se poi ci sarà anche la presenza di un Ivan accompagnato con un altro colosso, la cosa di certo non vi farà male, dato che, avendo 7 donne sul terreno, potrete impiegare da subito la vostra corazzata in gioco. Se sarà così, potrete procedere tranquilli, altrimenti mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup invece, i soliti Barba e Zoro vi regaleranno forti emozioni, dato che se voi diverrete aggressivi quando avrete 7 donne a vostra disposizione, loro lo saranno da subito, quindi cercate di mettervi ai ripari come potrete, anche perché di scudi difensivi ne avrete non pochi. Mentre contro Kinemon ve la giocherete quasi ad armi pari. Quasi. Per lo smoker invece, fino a che non scenderà in campo un Kuzan a costo 10, andrà tutto per il meglio. Per i restanti leader avrete vita facile. Per la win condition, di sicuro il duo Ivan-Luffy vi spianerà la strada, ma come già accennato, al posto di cappello di paglia potrà esserci anche qualsiasi altro character contratto in Pelldown, quindi quello che potrete giocare impiegatelo senza pensarci troppo. Mentre gli event saranno i grandi assenti di questo deck, ma se vorrete potrete, magari dopo una sessione intensiva di test, includere degli All-Star o dei Death Blink. Per gli stage invece, qui saranno presenti le 4 copie di New Kamaland, che rappresenteranno, lo ripeto, il motore di pescata principale dell'intero mazzo. Infine, per la fase counter, ci saranno 16 più 2000, vedasi Alvida, i Mister 2, tutti e 8, e i Dracula a costo 4, che se utilizzati al meglio, forniranno quel supporto ai già presenti blocker in campo, ovviamente per sopravvivere, o direttamente al vostro leader per mettere al sicuro le vite. Nel mazzo saranno presenti 12 blocker, vedasi i Doffi a costo 3, gli Inazuma e i Mister 3, 16 personaggi con valori di counter pari a 2000+, una fase offensiva di tutto rispetto, che potrà essere impiegata in modo massivo attraverso l'utilizzo dell'effetto di Ivan lato character, uno stage che, se utilizzato al meglio delle sue possibilità, rappresenterà una risorsa fondamentale per l'intero deck, e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti. Questo mazzo, inoltre, sarà economico. Probabilmente, per racimolare tutti gli elementi del deck, vi occorreranno massimo 70 euro ad occhio e croce, per starci larghi, e quindi rappresenterà a pieno la scelta migliore per tutti coloro che vorranno approcciarsi al gioco, gestendo allo stesso tempo un mazzo competitivo. Prima di concludere, volevo rendervi inoltre partecipi della presenza del canale Telegram, messo in piedi da Cryos, dove sarà possibile prenotarsi per eventi online con tanto di premi a chi si distinguerà, piazzandosi ai piani alti della classifica generale. Vi lascerò tutto il necessario, come sempre, in descrizione. Di sicuro, quando penso ad Ivankov, un solo termine mi viene in mente. Divertimento. Anche perché, non avendo poi delle strategie di gioco chissà quanto complesse, si adatterà perfettamente ad ogni tipologia di giocatore, sia veterano che non. Soprattutto non. Infatti, lo ribadisco, Emporio sarà il perfetto punto di partenza per ogni nuovo aspirante re dei pirati che vorrà salpare alla volta del tesoro lasciato in eredità da Goldroger. E voi cercherete di evadere dalla prigione di massima sicurezza vestendo i panni di questo leader? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.